Ciao streghe e ciao stregoni, benvenuti in una nuova videoricetta, stavolta vi preparerò i biscotti alla nutella veloci, gli ingredienti sono 150 g di farina, io uso una formula autorievitante ma va bene anche la farina 00, 180 g di nutella e un uovo, questi 3 semplici ingredienti, ora passiamo al procedimento, iniziamo col versare la farina nella terrina e successivamente la nutella per poi completare con l'uovo e iniziamo ad impastare il composto. Una volta che il panetto, l'impasto è pronto, dividerlo in palline della grandezza di una noce all'incirca. Ecco realizzate le palline già poste nella teglia foderata con carta forno, sono venute 32 palline, quindi all'incirca con questa dose il numero della realizzazione è quello. Ora con i lembi della forchetta andiamo a pressare ogni pallina per realizzare appunto la forma che sarà quella definitiva del biscotto. Una volta ripetuto il procedimento per ogni pallina e avendo formato così tutti i biscotti, li poniamo in forno già caldo ventilato a 175 gradi per 8 minuti. Trascorso il tempo di cottura sforniamo. Questo è il risultato finale, vi lascio con questa visione golosa, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e nulla, se volete iscrivervi al canale iscrivetevi e cliccate sulla campanella per restare aggiornati e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!